Non il fantoccio, lasciatemi sfogare, il fantoccio prigioniero dei business che viene da culture lontane da noi, non il babbo a Natale con la slitta e le renne, campanelli, pancia, farba finta, non letterine spedite in paesi nordici ricevute da nessuno, anche noi scrivevamo una letterina a Natale, però con su scritto, non voglio questo, voglio quello, ma caro papà, cara mamma, prometto di essere bravo.